milani sta chiacchierone quanta fantasia che hai quando tu non ci sei più perché la ciappana chi sei? chi è? chi è? un altro chi c'è? i ladri la grande curva cosa avete stasera? 5 a 1 abbiamo ladri è la madonna cos'è? ladri ma che cazzo? ladri com'è? non mi mordere però non mi mordete siamo arrabbiati due rigore io sono il portavoce della curva siete arrabbiati pure stasera settimana? saremo arrabbiati tutta questa settimana anche questa settimana arrabbiata due rigori ladri due rigori scusate povero sei il portavoce della curva rosso bianconiera cosa c'è? siete arrabbiati anche questa settimana? cani vediamo cosa dicono cani ladri due rigori la pavetta la pavetta la pavetta lascia mi stare che ha due rigori ladri due rigori due rigori un collo annullato due rigori il fuorigioco non c'è il fuorigioco non c'è il fuorigioco non c'era parleremo tutta la settimana ladri 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 parleremo tutta la settimana seguici gobbo di merda seguici ok 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 ok